Primo impegno del 2019 per il Palermo che allo stadio Renzo Barbera affronta la Salernitana nella gara valida per la ventesima giornata del campionato Serie BKT 2018-2019. Della partita contro i Campani ha parlato il tecnico rosanero Roberto Stellone. Hanno un ottimo allenatore, è una squadra che fino a 6-7 domeniche fa stava nei piani alti della classifica, hanno dei buoni valori individuali, non abbiamo la certezza di come giocheranno perché hanno cambiato moduli, può essere che giocheranno il 4-4-1-1, può essere che giocheranno con il 3-4-2-1, 3-4-1-2 o 5-3-2, questo lo vedremo domani quando ci daranno la formazione. Insomma siamo consapevoli che tutte le partite che affronteremo da oggi fino a domani fino alla fine del campionato saranno battaglie, saranno partite difficili perché tutte ancora di più giocheranno contro la prima in classifica, giocheranno contro la squadra da battere perché tutti ci terranno a fare lo sgambetto alla prima in classifica. Quindi tutte le partite noi le prepariamo sempre alla stessa maniera, o che giochiamo con la seconda in classifica o che giochiamo con l'ultima. Sarà possibile acquistare oggi biglietti presso la biglietteria sud dello stadio Renzo Barbera dalle 10.30 alle 17 e presso i punti vendita bivaticket autorizzati. Dirigerà l'incontro il signor Federico Dionisi della sezione di L'Aquila, fischio d'inizio in programma alle 21.